Vi sentite forti? Volete provare ad entrare nel team più esclusivo d'Italia? Ok, codice creatore di contrattina abusivo, taggatemi su Instagram, link in descrizione A breve partiranno le selezioni per entrare nel mio team E in più grazie al mio codice supporto a un creatore e partecipare dal contest stupendo, favoloso, magico di questo iPhone XS Max Da 1000€, raga, tutto in descrizione, seguitemi su Instagram, c'è il post in bocca al lupo Oggi ragazzi io compierò la mia vendetta Oh oh, ci spero, perché raga, dopo che Alias ha inviato un hacker vero per sfidare il mio team A sfidare il mio team naturalmente ha vinto la prima volta che Alias vince contro di noi Ci ha distrutto, ci ha umiliati, però devo ammettere che io una volta l'ho killato Raga, oggi è giunta l'ora della mia vendetta Ho chiamato, per l'occasione, l'hacker più famoso in Italia Prima di vederlo, prima di invitarlo, prima di vederlo entrare con le sue hack Voglio che scriviate secondo voi chi è Raga, lascio il cuore a chi indovina per primo E niente, oggi spero di riuscire a vendicarmi E di dare una lezione ad Alias e il suo pazzo Hacker, membro del team della setta di Alias Il problema sapete qual è, raga? Che adesso io ho paura di entrare, cioè parlare con loro Perché sono già, cioè, l'altra volta già non riuscivo a gestire Che poi si è chiamato Dietobotobli Neanche sa scrivere Alias, ti posso fare una domanda? Tranquillo, ma sa scrivere Cioè, non sa giocare e usa le hack Ma le hack per scrivere non esistono, scusami Perché Dietobotobli Dietobotobli Non era Diego Bottolli in realtà Perché ha scritto così? Diego c'è scritto Eh? Ma Dieto, avrei sbagliato, non c'è problema Qual è il problema? Ma neanche te se legge Comunque, oggi Vabbè, chi vuoi che sfida il mio campione? Dai, dai Lo sai che perdi Campione, campione 3 di 3 contro lui, dai Usa le hack È l'unico che riesco a battermi Grazie, usa le hack Chi è che deve battere il mio campione? Chi è che vuole perdere? Invitalo, fammi vedere Allora Dimi il nome, dai Aspettate, adesso lo invito Vi do una possibilità Vi do una possibilità Appena avete il nome Vi do la possibilità di quittare Vi dico solo questo Si fra un babbo questo Avrà le hack quelle dei bambini Speriamo di no, raga Io ho fatto tutta la parte Per mettergli paura Per mettergli timore Però non è detto che abbia le hack Quelle potenti Quindi Mario Will Mario Will No, l'ho invitato L'ho invitato L'ho invitato L'ho invitato Mi stai tranquillo Boom Mario Will Boom Sarve Ve l'ho detto che era un hacker Fortissimo Sarve non si può sentire, socio Allora Sei pronto a perdere? Alias Zitto Mario Ti faccio una domanda Che loro non possono sentire Ok? Su Whatsapp Quindi può sentire solo il pubblico Adesso ti farò una domanda Col PTT Ok Mettete pronto intanto Ok Raga speriamo che abbia le hack potenti Mario Cosa molto importante Hai le hack potenti O hai le hack quelle Meno potenti Che qua rischiamo tantissimo Raga Incruciamo le dita Incruciate le dita anche voi Anzi lasciate like Lasciate like Lasciate like Signor Diego Io ho le hack meno potenti E so che loro non mi sentono Quindi ahimè Ho quelle meno potenti Ma metterò tutto Mestesso per battere Questo Che mi sta già antipatico Raga 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 Io sono riuscito a killare una volta Zara non c'è riuscito Lui con le hack Forse Non lo so Raga Dipende tutto da lui Dipende da come gioca Ah non c'è bisogno Ma mamma Senza no è la kid Vabbè Niente Cioè Ma cosa state facendo È stato crashato È stato bannato È stato bannato Alias Iniziamo bene Il twacker mi sembra un po' fallito O sbaglio Adesso torna con un altro nome sbagliato Immagino Esatto Vabbè noi aspettiamo Una cosa Signor Diego Tu non lo vedi Ma sta laggando la creativa Ok alias Quanti minuti ha Prima di essere bannato Lacker fallito Guarda Se non vuole uscire dal team Deve durarmi una partita Dai Sto mettendo Alias Sto 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 Nuovo Accetti Questa cosa Al terzo Ban Persa Tavolino Perso Tavolino Ci so Guarda le macro Le macro Pure le macro Si poi No sono le macro Sono le macro Sono le macro Guardate Guardate Che schifo Comunque Mario Ma che è un casper Mario Allora Mario 3 2 1 Let's go Guarda Se viene bangato Un'altra volta Lo butto fuori dal team Alias Stiamo vencendo Inmediato Non posso perdere Così a tavolino E' fallito 3 1 Mario Ma secondo te Ho fallito Come hacker 3 2 1 Pum Morto Scattato Incredibile Incredibile Va bene Vuol dire che fa proprio schifo Quindi è perso 1 E' farne dal team 2 Lo spacco Guardi dal team Troviamo al centro Contro Alias Dai Avanti Ragazzi Aspetti Ci sto Ci sto 3 2 Diego 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 Ma non è che sei tu Che lo stai facendo bannare Con il tuo maneggio E questo scarso di Mario Io Ha paura di fare la sfida Perché ha le hack potenti No raga Ma che stavo Che stavo Che stavo No Ti giuro Ci credi Vabbè Ti fidi Easy Non mi interessa Vai Sei più forte Delle hack 3 2 1 Let's go Raga Dai Let's go Let's go Mario Will Mario Will Dai Spaccalo Eh forse Alias E' più forte Però naturalmente Mario Ha le hack Dell'automira Tu hai l'automira No? Potenziata Non hai le hack Non hai le aimbot No 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 Ho l'automira potenziata Ok Non è Non hai le aimbot Gli hai fatto un bel 110 Quindi praticamente 132 Ok Praticamente non è diretto Tu devi mirare Ok Prima devo mirare per avere L'automira Non parliamo proprio Non parliamo proprio Adesso un po' di riscaldamento Si si E' partito E' partito Ma dove ti senti a casa tua Oh 110 110 Raga un bello scambio di hit Un bello scambio di hit La prossima hit è quella importante Adesso Adesso Vedo carico Bravo 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 Si Ma come è bravo Non gli devi dire bravo Non gli devi dire bravo Questo è come i cani Che gli chiedete un pezzo da mangiare Poi L'ho capito Addirittura Comunque sei scarso Fratello 3 2 Per una kill 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 ha fatto E ti dico solo Oh guardate quanto è carico Ragazzi ma quanto è carico Alias Lo vedo carico Alias lo vedo carico Ma sicuro che sta giocando lui Alias sta migliorando È migliorato No Eh si Spamma un po' le strutture Però si impiccia spesso Oh Oh Non ti ho sparato Oh 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 Gli hack si fanno sentire È niente Bro Vai spaccalo Dai Ti do il consenso di spaccarlo Dai Ti do il consenso di spaccarlo Spaccalo 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 Ahias Non dici niente Guardate ragazzi Non sto facendo niente Non sto facendo niente Ma non hai vita Ti ha distrutto Non ho vita Ma ora lo distruggo tu Guarda Ma come lo distruggi tutto Ti ha distrutto Attento Mario Attento eh Mario Will Dobbiamo vincere per forza Non possiamo perdere contro Alias Ah ma vai tranquillo Cioè proprio Sarebbe un affronto Troppo grande Per tutto Veloce Sei scarso E beh Ma Alias Che mira che ha io Alias rimane là Ti sta missando ogni colpo Sta missando ogni colpo Alias No veramente Io piano piano lo ferisco Non ho bisogno di farlo Ragazzi Alias Sarà migliorato Nel buildare Ma come mira fa schifo Comunque Scherzando e ridendo Alias Dimmi se sei d'accordo Si è trasformata In una sfida molto interessante Da un lato abbiamo Uno che non sa buildare minimamente Che Mario Will è fuori forma Ma con un'ottima mira Grazie al lane bot Dall'altra parte Uno che sa buildare benissimo Tra virgolette Sempre Alias Però non mi deve sentire Però con una mira Un po' di cacca Che si è Quindi sarà una sfida Giusto? Va bene 3-1 Vai Let's go Let's go Ragazzi Ma ho messo che cosa Ho messo che cosa Io ho detto che fa schifo Ma Mario Vi la buildare Si è bloccato da solo Tu e l'altro hacker aveva colpi Stavo dicendo Stavo dicendo L'altro hacker aveva colpi infiniti Lo sai Munizioni infinite Anzi Spiegami un po' questi hack Non ha munizioni infinite Si Alias Ammunizioni infinite Il tuo player Punizioni infinite Il tuo Quello sciamo di prima Eh? Si blocca Un secondo Finisce i colpi Si blocca un secondo E riparte Senza lo caricare Attenzione Alias Allai ground Alias Allai ground Mario Will Mamma mia Ha preso un hit Ha preso un hit Incredibile Mamma mia Qua potrebbe perdere Potrebbe perdere Mario Will Un'altra hit Importante Ed è KO Quindi deve per forza Fare un 200 Fa un po' un 200 Cosa fa questi hack Bene Ok non serve un 200 Non serve un 200 E' già è stato Alias Mamma mia Ragazzi non ha più vita Non ha più vita Non ha più vita Per poco Per poco Deve vincere Non possiamo perdere Due round Non possiamo perdere Due round Vai Mario Will Si deve coprire Si deve coprire Come sta buildando Ok perfetto E' riuscito a prendere Le ground E' riuscito a prendere Le ground Vediamo si riascitarlo Vediamo il hit Importante Questa lite Importante E' morto Quanto stiamo 5 a 1 Diego tu mi stai tossando Stanno sentendo tutti Che mi sta laggando la voce Dai Con 70 di ping In creativa Ma cattatini la connessione Che do Vai 3 2 1 Let's go Adesso Adesso che sono a posto Vai vai Cosa Vai let's go raga L'ultimo round L'ultimo round L'ultimo round L'ultimo round Ha vinto Mario Will Ha vinto Mario Will Ha vinto la mira Ha vinto la mira Oddio si è coperto bene 33 Mario Will Tu hai le hack Fasule Le hai fatto 33 Ok ragazzi Per questa sfida Utilizzerete soltanto il rampino Alias sei pronto Lo spacco tutto Vai 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 Dai Oh ferma Sposa le armi Le hai posate dei alias Ma che sta facendo Il balletto del muro Ma che è Ti ho detto che le ho posate Le ho posate Ma che stai a fa Ma qualcuno lo sta tossando Sul serio Non io raga Vediamo vediamo se funzionano Ma funzionano con questo Mario Non l'ho mai provato Forse no Non lo so Mi f***o tutto con le hack Oh no no bro Eh qua senza hack Ti state sfuggendo Allora Aspetta Allora Allora Mi fate parlare Mi fate parlare che è mio il canale Allora Ascoltami Ascoltami Guarda dimmi un attimo qui Allora Guardami Ascoltami Adesso devi dire una cavolata Una cosa importante Una cosa importante Ascoltiamo Allora innanzitutto Quello lì obbligare Come si chiama Non mi interessa L'ho buttato già fuori dal team Perché al suo hack Non valgono niente Non valgono niente Non ti voglio più vedere Nessun video Di nessun canale Che usi le hack Perché se no Il contatto subito La epica A me non mi interessa Proprio niente A me non interessa Ma tu che hai contatti Con tutto il mondo Te lo sto dicendo Ciao Te lo sto dicendo Ciao Ciao Ma che è ciao Sei andato È andato Mario Guarda che sta ancora in lobby Guarda che ti senti Guarda che sono qui Classico Ogni volta ci casca la gente